Ehi la, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Monster Hunter Stories. Nello scorso video sono arrivato finalmente nella bellissima cittadina di Gildegarn, che sembra più una fortezza che una cittadina semplice, e ho preso qualche uova di mostro, due per la precisione, che andrò a schiudere ora subitissimo. Inoltre ho sconfitto un Kezu inferocito, ma non posso schiudere le uova, l'avevo dimenticato. Dobbiamo prima andare a cospetto dei cacciatori e vedere se... Sì, devo andare alla Gilda, non posso andare per di qua, devo prendere un'altra strada. Quanta libertà esplorativa mi regala questo gioco, ma per farmi fare quello che voglio fare. Allora, posso passare per di qua? Oh, finalmente! E là c'è una guardia che ovviamente ci bloccherà. Talvez, sono solo venuto qui per parlare con la Gilda, con il maestro della Gilda. L'entrata è proibita, gentaglia come voi. Ma che problemi hai? Siete voi il problema, state disturbando la quede pubblica. Anzi, passate e consegnate subito alla Gilda il mostro che avete catturato. Ma che miavolo dici, catturato? Questo è il nostro monstie, è un nostro amico. Non si può essere amici di un mostro, vi terrò d'occhio. Su via, su via, Genthor. No, no, non dovresti usare modi tanto sgarbati con degli ospiti, penso io a loro. Sì, maestro della Gilda. Maestro della Gilda? Ebbene sì, ebbene sì, sono il maestro della Gilda, ossia il capo della Gilda qui a Gildegaran. Il capovillaggio di Hakum è un caro, caro amico, mi ha parlato di voi. Non lo sentivo da molte, molte lune, ma di recente mi è arrivata una sua lettera. C'era scritto, anche le notti più nere c'è la nomicizia sincera. Già, già. Orbene, orbene, possiamo parlarne alla Gilda dei Cacciatori? Andiamo. Allora, questo ovviamente è un palese amico, come adesso non credo di... Ma si vedeva anche semplicemente guardandolo, del capovillaggio di Hakum. Il problema è che lui non parla in rima, per fortuna, ma ripete le parole. Ora, ora, io non sono un grande fan dei Power Rangers, però queste divise che sono palesemente ispirate ai Power Rangers sono i colori, eh. Un pensierino! Ce lo farei, sono molto belline. Tra l'altro, a palazzo abbiamo un maiale reale. Bella questa. Questa l'hanno fatta con un Kezu, probabilmente. Sì, quella è la faccia. Allora, signorine. Tu si circonda di signorine, vecchietto, hai capito? Vecchio volpone. Una ci ha fatto gli occhioni dolci, l'ho vista, eh. Questa è la gilda dei cacciatori. È qui che tutti, tutti i cacciatori si riuniscono. Chi lavora alla gilda è il compito di dare supporto ai cacciatori. Già, già. Ordonque, ordonque, voglio scusarvi per il comportamento di Gantor di poco fa. Credo di essere l'unico qui che sa dell'esistenza dei Rider. Eh, scusa, accettate, nessun problema. Dei miei insulti me ne faccio un buffo. Infatti ne ha quattro. E poi anche a me si è rinzato il pedo la prima volta che ho incontrato Socio. Piuttosto, non avevi mai sentito parlare dei cacciatori primi d'ora? Già, ghisaltarino, dovresti vederli in azione. Orso, orso, avviarmi preparati qui per garantirvi un lieto, lieto soggiorno. Oh, che sciocco, che sciocco. Mi dovrei presentare le sorelle della gilda. Wow, che roba. Cioè, quello che contiene proprio un mostro. Forte. Come si fa ad addestrare un mostro così? Non ho visto mai nulla del genere. Nella mostropedia. Ah, scusate l'intromissione, scusate. Su, ragazze, non siete scortesi. Prima di tutto è buona educazione a presentarsi. E poi quel mostro sembra addomesticato. Che bestiole adorabile. È persino più amichevole del mio Puggy. Che tecniche di addestramento usi? Ma non avevi detto che dovevamo presentarci per prima cosa, eh? Cioè... Oh, hai ragione, mi sono lasciato a prendere dell'entusiasmo, lo ammetto. Scusate. Su, via, su, via. Questo allegro trino di ragazze supporta la gilda con zelo. Se hai bisogno di aiuto, non esitare. Non esitare a chiedere a loro. Orso, orso, sarete stanchi per il lungo, lungo viaggio. Ciò nonostante, è una piccola, piccola missione da assegnarvi. Di già. Provare il vostro valore può mettervi in buona luce davanti ai cacciatori. Già, già. Rivolgetevi al cacciatore chiamato Reverto. Vi aiuterò a sistemarvi. Già, già. Lo chiamano il cacciatore fenomenale. È così... Fenomenale. Fenomenale. In che senso? Che tipo sarà questo Reverto? Vedrete, vedrete. Ai, 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 ragazzi. Che fatica. Abbiamo armature che creerà il Fabbro. Farò una visita al Fabbro quando avrò tempo. Usare equipaggiamento abbinato al Maosti che porti in battaglia attiva un effetto di sinergia. Ciò riduce l'uso di carica delle gabe quando impartisci i comandi ai Maosti. Ah. Il Fabros, il Fabros. Ciao, Fabro. Che mi dici, bello? I martelli! Grande! Alle missioni, Fabro, posso creare equipaggiamento. Consegna materiali e zanni richiesti della missione per ricevere il nuovo equipaggiamento. Ok. Ovviamente, avere un'armatura o un... Oh, armatura Yankut Q. Ok. Bene, bene. La voglio assolutamente. Anche quella del Veloci Drome voglio. Sì, sì. È più che altro perché uso Yankut Q e Veloci Drome. Quindi, lo spadone di Yankut Q. Bene. E anche quello del Veloci Drome, ok. Serve però anche molto denaro. Eh, queste mi sa che le faccio... Allora, queste le faccio poi per conto mio. Sarà interessante farmene per conto mio. Però, se intanto potenziassi magari il rango delle mie armi che già ho... A questo punto, prima di provare a far schiudere le uova, visto che ancora non posso, andiamo alla casa di questo reverio. Almeno vediamo, insomma, di andare avanti con la storia. Popola. E' bighello nato tutto il giorno. Non fai che raccogliere i funghi, non ti do mai a caccia in questi giorni. I funghi sono il mio carburante, non posso cacciare senza i funghi blu. Vai, uno sciame di Altharoth dal bosco nascosto di Babd sta creando problemi. Altharoth? No, passo. Non mi piacciono un gran che gli insetti. Non mi dire che hai paura degli insetti. Certo che no, è che ho da fare. Che volete? E' qui che vive Reverto, il famoso cacciatore fenomenale? Sarei io. Sarei tu il cacciatore fenomenale. Il maestro della gilda mi ha già detto tutto. Loro ha intenzione di farvi da balia. Balia? Oh, davvero ti porti il mostro in giro con te? Che strano ragazzo. Comunque la stanza vicina a quella con la porta rossa è tua. Usala come credi. Ma quella con la porta blu è mia. Non presentarti senza bussare, intesi? Ah, puoi anche usare il cortile come scuolerie. La gente tende a spaventarsi quando vede un mostro a zonzo in città. Beh, era tutto quello che avevo ora a dirvi. Le faccio un pisolino. Lui sarebbe cacciatore fenomenale. Ciao, sono io, maffi della gilda dei cacciatori. Ho una lettera del maestro della gilda. Ora ve la leggo. Allora, avete incontrato Reverto? Ho una cosa da chiedervi. Un mostro feroce si è stanziato sulla costa della piana di Monsonne. Anche i nostri cacciatori esitano a sfidare questo ludrofe reale. Oh, abbiamo monitorato questo mostro che abbiamo ribattezzato il Diluvio. Se non ce ne liberiamo i pescatori non potranno pescare il tonno spada. Vorremmo avere il vostro aiuto. Contiamo su di voi. La gilda dei cacciatori di Gidegaran. Magic, maestra della gilda. Do tutto, ora vi lascio. Ma non belbetta lei quando deve leggere le lettere? Strano. Devo andare a sconfiggere questo... Devo andare a uccidere, non sconfiggere. Un ludrofe reale. Sulla costa della piana di Monsonne. Va benissimo. Io esco e vado nella mia stanza a vedere, insomma, cosa posso fare. E soprattutto, ho detto che ho un ranch, giusto? Ho un posto dove mettere le mie cose. Quindi, eccoli qua. Che bellino. Allora, facciamo schiudere... Ma no, ho in coin. Come l'ha preso il comando del maiale se stavo vicino al gatto? Posso fare anche il rituale, ora. Cartone uova. Schiudi un uovo. Vai, sfidiamo questo qui. Vediamo che esce fuori. Qualcosa di bello, di emozionante. Un Gipceros. Wow, che bello. Non ha niente nome. Bellissimo quello. Questo che si divena... Cosa nasconde? Un Ercilla. Oddio, un ragno! Più o meno. Allora, metto prima il mostro nuovo che ho trovato. Così vediamo, insomma, che cosa ci porta. Non penso riuscirò a vincere al 100%. Però vediamo un po' come cammina questo. VELOCINO! Non è male, eh! Ma che bello! Accidenti! Oh, questa è la radura nuova! Sì, sì, sì! Che bello! Un po' troppo vicino all'immagine per i miei gusti, ma l'ho sempre detto. Che bello! Allora, un attimino qua voglio affrontare un po' tutti. Non sono sicuro di vincere, quindi... È così. Potrei magari fare un attimo qualche piccola deviazione e andare a prendere le uova. Perché ci sono tani rare qui, eh! Dov'è, 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 dov'è che devo buttarmi? Qui, bene. Io qui... A parte che tu sei un ragno! Lui può... Ok, non può arrampicarsi sui muri, ma sulle... Sulle edere? Potrebbe arrampicarsi per le edere, lui. Eh! Ci sarà da fare un po' di backtracko! Sì, sì! Il sacro backtracko! Backtracking, sì! Dico in maniera stupida perché sono... Perché voglio essere fan! Ma ad ogni modo... Allora, sto mostro qui... Potenza! Non gli facciamo niente! E scappa! È un po' di volte che lo incontro! E scappa sempre! Anche se avere come primo mostro uno che non ho mai allenato... Non è proprio la scelta ideale! Ecco qua! Allora, andiamo un po'! Quello che devo fare è trovare il nido del mostro! Sarà questo? No, Tana mostro raro! Ok! C'è un mostro che fa la guardia! Ma è un mostro bellissimo! Quindi andiamo subito incontro! Ma non mi sta inseguendo! Ah, ok! Sì, sì! Ma mi insegui fino a che non combattiamo? Volevo un attimino vedere la scena con lo che succede! Perché dico... Non mi riporta! È un Rathian! Ah, no! Sott'acqua velocità! Ok! Quindi dovrebbe essere un tipo veloce! Allora abbiamo la Tecnicas! Bene, meno male! Ok, attacco velocità! Perfetto! No! Yankut Kuno! Oh, è forte questo! Mena duro! No! Attacco potenza fa! Ci picchia! Oh, che dolore! Vai, palla di fuoco! Ok, pensavo meglio! Sott'azione solo Yankut Kuno che ci vuole! Vai, bello! Mena, mena! Ok, tecnica, perfetto! Vai, doppio! Buono! E ora in sella! Ne facciamo... No, no, fuggi! No, no, fuggi! Tutto questo per nulla! Sono sbagliato! No, prendiamone un altro! Un pochino più carino! Questo mi piace qua! Vabbè! Un altro puggi! Allora, da qua scorgo il punto nel quale dovrei arrivare, no? E ci vado! Di corsa poi, di gran carriera! Ok? Ah, questi mostri qui, come ho detto, me li faccio poi per conto mio! Mi esploro tutto l'esplorabile! Recupero qualche uovo che non farò schiudere! Perché lo schiuderò in video, ovviamente! E... Vabbè! Se poi lo faccio, certo! No, dimmi che sono mu... Ah, sta dormendo! Mi sembrava una testa di mostro sotto la sabbia! Ok, allora, il nostro amico qui sembra piuttosto irritato! Cosa c'è? Chi è che t'ha fatto male? Dillo allo zio Andrelink! Guarda! Sembra una banana con le macchie, guarda! Oh no! No, volevo andare un attimo dalla barca a vedere cosa c'era! Sembra proprio quello che ha causato tanti guai! Seguiamolo e mostriamo a quel viscido spugnoso di che pasta siamo gatti! Cosa? Certo, perché è un gatto! Però fatti non è un termine... Comunque, il diluvio... Insuppato! Quindi ci bagna! Blocco abilità! È una fregatura! Però al mosti l'ha fatto! No, ok, parità! Quindi sembra un tipo tecnico... No, la potenza ci vuole di più tecnici! Ok! Sono debolino! E effettivamente sono debole! Devo assolutamente salire di livello! Ok, potenza facciamo uno scontro alla pari! Alla pari in cavolo! Perché mi ha fatto malissimo! Mi ha fatto troppissimo male! Ok, va bene! Inzuffato, va bene! Blocco abilità! Ok, ci sto! Tecnica perfetto, vinco io! Nel caso si scontrava con me! Ah! Lo Yankutku regge bene però, eh! Ora non faccio fuggi! Faccio abilità legame! Vai! Ah, che sbaglio prima! Sputa tutto! Flusso d'acqua! Questa fa male, mi sape! Ma non troppo! Ok! Fuggiamo noi, grande! Ok! Ma che è lo scontro di Kamehameha su Budokai Tenkaichi! Vai! Potenza, ok! Velocità, velocità! Yankutku! No! Va bene, va bene! Non ti preoccupare! Siamo ancora in vantaggio! Ti faccio recuperare la salute magari dopo! Allora, non è ancora andato ca... Cioè, non è ancora caduto, voglio dire! Quindi potrebbe essere che... Prima recupero io la salute! Poi lui! Perché se mi fa fuori è un problema! Visto che ho meno difesa, meno vita! Ok, perfetto! Ora, mosti! Fai un po' vai! Peccata furiosa! E... Facciamo pozione per... Eh! Dai! Mostriamogli quello che sappiamo fare! Arriverà il momento in cui lo Yankutku magari non lo uso più! Però, per il momento, finché ci siamo... Erbe mi bastano, no? Mi faccio una pozione per usare! Eh! Per fortuna che l'ho fatta! Vai, grande! All'ultimo respiro! Yeah! Ottimo! Amico mio! Ancora una volta! Abilità legame! Vediamo se ce la facciamo! Vai! Lancia tutto! 200 quic! Yeah! Sono il migliore! Grado A! Ok, quindi... È andata meglio del previsto! Nershilla sta a livello 9 già! Ok! Wow! Wow! Ah, dei bonus erano! Però, wow! Ci sta! Proprio come pensavo! Non hai problemi quando sono a tuo fianco, vero, socio? Sotto arriviamo a Gildegara e iniziamo al maestro della gilda del nostro successo! Scametta che sarà sorpreso quando scoprirà quanto siamo stati magnifici! Allora! Abbiamo ucciso un Leviathan! Wow! Quello era un Leviathan! You kidding, bro? You kidding? Ok, prendiamo la gattovana e andiamo! È la prima cosa che voglio fare! Rompere questo ovo e vedere cosa esce fuori! C'è Fadrome! Wow! Tipo uno scolo martello! Che bello! Wow! 109 di punti! Salute! Freghete! Allora, c'è una specie di feline stupegatto Che fa delle domande È una missione Io l'accetto molto volentieri E devo rispondere correttamente a tutte e tre le domande Vediamo che succede Domanda numero uno Quali di questi miostri non si trovano nel villaggio di Hakum? Un congalana, credo Quanti zenni si possono guadagnare vendendo orbe nei negozi? 12, mi pare Quanti uomini si trovano presso le sorgenti termali di Darcio? 4 Quindi erano Arzolos, sei zenni e quattro uomini alle sorgenti termali Devo comunicare che ho sconfitto un mostro Ah, ecco Ma posso prendere una di queste armature? Anche questa verde Cioè O questa da donzella, sembra Cioè, abbiamo la gomma Allora, signor anziano Bene, bene Ti va riconosciuto una certa forza Niente male, eh Faccio ancora le fuse per l'adrenalina Ma puoi stare muto per due minuti? Parlo io Il protagonista che non parla ormai è superato È evidente che mi trovo dinanzi a una persona fuori dell'ordinario Già, già Forse, forse a partire da oggi si sono aperti nuovi orizzonti futuri Altri Raider in passato sono venuti qui per imparare di più sul mondo esterno La gente li ha sempre attesi con tanta, tanta prevedazione Eppure, eppure non ne sono più arrivati Cacciare o allevare mostri richiede un approccio molto, molto differente È davvero complicato aprirsi a culture diverse dalla propria Già, già Ed è più semplice, ahimè, ahimè Viversi separati dagli altri, isolarsi Nel tempo ci siamo dimenticati gli uni degli altri Perdendo ogni, ogni contatto Beh, ora che siamo qui abbiamo l'occasione perfetta, no? Le vostre agenti potrebbero riprendere i contatti Magnifico Forse, forse, ma non sarà comunque facile I cacciatori saranno tanto, tanto turbati nel riscoprire l'esistenza dei Raider Il primo, primo passo sarà sconfiggere le proprie paure Sicuramente voglio che tutti qui conoscono il mio sogio E anche noi vogliamo saperne di più a proposito dei cacciatori Molto bene, molto bene Ci saranno altre missioni da aspettarvi d'ora in poi Orsu, orsu Quando qui avrete finito date un'occhiata alla bacca delle missioni Magnifico, grazie, nonnetto E questo è tutto ciò che posso fare per voi, miei giovani, giovani amici Starà a voi conquistarvi la benevolenza di questa gente qui, già, già Forza, forza, il giovane Raider Mia, tonnetto fianco, non c'è nulla da tenere Perfetto, e ora sarà meglio rifornirci prima di uscire da qua Quindi qui abbiamo finito, in teoria Ma, no, no, allora io me ne vado in giro per le carre selvagge Ad esplorare ogni anfratto, ogni cosa E poi, magari, andiamo avanti Però per il prossimo video Prometto di essere di un livello più alto E di aver, magari, preso anche qualche arma nuova Perché ci vuole Ad ogni modo, per questo video è tutto Vi ringrazio, ovviamente, per averlo seguito In descrizione Trovate, ovviamente, tutti quanti i link ai miei social Da oggi c'è, dovrebbe esserci anche TikTok Comunque, in descrizione trovate tutto quanto E ci vediamo al prossimo video Ciao! Ciao!